Spaghetti and plastic Latte e valflora Mele Avrebbe dovuto pesarle Oh, ho pensato che fossero vendute al pezzo Mi scudi se mi intromitto Ma lei sa chi sono quelli che pensano? Quelli che non sanno nulla Zucca Vado un attimo io Per di più è anche indicato Salame Per colpa sua Devo passare tutto il giorno qui ad aspettare La Migros Ora appartiene ai bambini Sono arrivati i Mini 52 prodotti Mini di culto Da collezionare, scambiare e giocare Mini Mania Ora alla Migros E in più l'album di raccolta per tutte le figurine